Se ci sono le condizioni per sciogliere Roma e non lo facciamo non potremo sciogliere più neanche Platì, quindi dobbiamo essere coerenti da questo punto di vista. Se non ci sono le condizioni e non si scioglie, io auspico, come dicevo prima, una modifica della legge, qualcosa che comunque consegni a chi guida quella città impegni precisi con una commissione che ne verifichi l'attuazione.